Il Ministro Toninelli nuovamente alla viadotto di Macchia Maiura sotto la 25 per fare il punto della situazione sulle verifiche che il Ministero delle Infrastrutture in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma sta effettuando. Le verifiche fatte dal concessionario non corrispondono alle verifiche fatte dal Ministero e dall'Università, che significa che questa infrastruttura non sta così bene come ci dicevano e significa, e questo è il dato politico enorme, quando io sono venuto qua nel settembre dicendo di fare le verifiche al mio Ministero dei Tecnici, che hanno dato come conseguenza una prescrizione al concessionario di limitare il traffico perché non stavano così in salute, ci hanno detto che avevamo creato allarmismo, oggi i dati scientifici ci dicono che abbiamo fatto bene, perché le carte che ci sono dato al concessionario dicevano che stava molto meglio di quanto oggi i rilievi scientifici ci stanno dicendo, andiamo avanti nelle verifiche di sicurezza per evitare altri crolli come il ponte di Genova. Limitazioni alla traffico dunque necessarie, secondo l'ingegnere del MIT Migliorino, discutibili secondo l'amministratore delegato di strada dei parchi ramadori che giura sulla sicurezza delle infrastrutture. ha dichiarato che i carichi che lui ha messo sono l'85%, sono i carichi, sono l'85% dei carichi della nuova normativa e sono però il 101% dei carichi della vecchia normativa, questo lui non lo dice e dice che con l'85% si sono fessurati, hanno fatto il loro mestiere perché hanno superato il 100%. discorso a parte quello relativo ai fondi, 192 milioni destinati a strada dei parchi per svolgere dei lavori e, secondo il MEF, non più disponibili. Ho parlato stamattina con il ministro Tria che ovviamente conferma l'esistenza dei 192 milioni, c'erano e ci sono. E quindi non sono stati dirottati su Genova? No, su Genova erano stati dirottati più di 300 milioni come garanzia per la costruzione del ponte, li ha messi tutti i concessionari o aspi e quindi quei soldi torneranno e credetemi che li utilizzeremo molto bene per la sicurezza e il controllo delle infrastrutture italiane. Questo per dire che la concessionaria è disposta a effettuare i lavori necessari però se questi fondi in qualche modo prendono altre strade? No, no, allora i 300 milioni non erano destinati, i 300 milioni erano destinati per il ponte Morandi che ha pagato il concessionario e non coi 300 milioni dello Stato. I 192 milioni ci sono, ovviamente stiamo aspettando i progetti affinché poi vengano tutti utilizzati questi 192 milioni. Ho in mano un documento che dimostra che di milioni ce ne sono in questo momento forse 112 e per questo il decreto è stato rimandato indietro al ministero perché lo corregga. Quindi ad oggi la situazione è questa, i soldi non ci sono, questo è il risultato finale. Noi abbiamo aperto già 8 o 9 cantieri con fondi propri e fino a che riusciamo a farlo andremo avanti con i soldi nostri. Su questo documento che ci diceva prima Toninelli forse ha mostrato delle perplessità ma è un documento firmato? È un documento firmato, non mi chiedete di più perché non voglio mettere nei guai nessuno. Grazie. 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 Grazie.